In queste due giornate in cui abbiamo ospitato come Comune di Pesaro l'incontro annuale della Rete Redi abbiamo affrontato diverse tematiche che riguardano le discriminazioni omo-lesbo-bitransfobiche che riguardano il territorio italiano e nello specifico oggi pomeriggio all'interno dell'evento pubblico anche quelle che sono le azioni di contrasto a queste violenze che nel nostro territorio, nella nostra provincia continuiamo a fare grazie anche al supporto dei centri antiviolenza di Fano. In queste giornate sono state tante le tematiche affrontate dalla questione delle coppie omogenitoriali che ancora non hanno un pieno riconoscimento dei diritti come genitori di bambini e di bambini alla questione della difficoltà di essere accettati, di avere dei diritti a supporto anche delle persone intersex e una parentesi sulle persone trans e su quello che le amministrazioni locali possono fare anche per agevolare carriere alias che già nelle scuole e anche nella nostra città sono dei percorsi che sono stati attivati. Noi come Arcighegora Pesar Urbino insieme a Comunitas di Ancona abbiamo aperto il centro a Fano presso il paricentro, si chiama Rainbow Hub e poi abbiamo anche invitato sia per vicinanza ma anche perché insomma abbiamo delle pratiche simili, abbiamo invitato anche il centro Pride di Martinsicuro quindi abruzzese. L'importanza di continuare a parlare di queste tematiche e dell'odio che c'è verso la comunità LGBT serve per portare avanti una cultura di inclusione per una società che sia sempre più ampia e capace di intercettare i diritti di tutte, tutti e tutto e in questa azione, in questa lotta siamo più di 70 enti presenti qui nella città di Pesaro altri ci hanno seguito e hanno seguito i lavori collegati da remoto, circa 150 enti hanno partecipato a questo incontro annuale.